Ciao a tutti, sono Tomas Cheval, sono cantante e musicista, suono il pianoforte. Diciamo che non c'è molto altro nella mia giornata a parte la musica, quindi o mi relaziono tantissimo con il mio team, oppure scrivo nuova musica, continuo con lo studio del pianoforte, registro, quindi diciamo che succede il tempo libero, passeggio, quindi sono molto incentrato sulla musica e ho scelto lo stretto indispensabile perché secondo me dietro questa canzone c'è una filosofia pazzesca, soprattutto per dei bambini e la cosa bella è che neanche noi adulti riusciamo a starci dietro a questa filosofia, quindi mi aveva colpito molto riascoltandola dopo anni, perché questi sono i cartoni della mia infanzia, quindi c'è anche un'affezione particolare, e niente, quindi buona visione. Mi sento di stare a casa mia, ci sono lassù le api che il loro miele fan per me, se sotto un sasso poi guarderò, ci troverò le formiche un po' io me ne mangerò, vicino a te quel che ti occorre puoi trovare, lo puoi trovare, lo puoi trovare, lo puoi trovare, lo troverò, ti bastan poche briciole, lo stretto indispensabile e i tuoi malanni puoi dimenticare, ti serve Solo il minimo e poi trovarlo è facile Quel tanto che ti basta per campare Quando tu prendi un frutto, non fidarti mai Se ti punge brutto, ti fai male sai Attento ai fichi di nia perché ha tante spine Ma invece se tu trovi un fico che è normal Te lo prendi e non ti farai del male Hai capito sì o no? Vicino a te quel che ti occorre troverai Lo troverai Lo troverai Lo troverai Lo troverai Lo troverai Lo troverai